Una chiesa, la Gran Madre di Dio, dove per 50 anni ha fatto il parroco Don Gabriele Belachi, 50 anni di sacerdocia all'insegna dell'ascolto e dell'accoglienza. Una chiesa che per i suoi spazi non ha potuto contenere tutti coloro che oggi pomeriggio han voluto essere presenti di questo ultimo passaggio terreno per il suo rito funebre. Una parrocchia, quella della Gran Madre di Dio che è cresciuta con lui e che lui ha, come ha sottolineato il Vescovo Trasarti, migliorato e fatto crescere. Molti dei cinquantenni presenti oggi sono stati in montagna con lui, altra grande passione di Don Gabriele, e se lo ricordano bene. Come è ricordato anche dal diacono Maurizio che ha detto a questo proposito, parlando della montagna ti brillavano sempre gli occhi. Oggi alle 15 in punto il Vescovo ha celebrato il rito funebre nella casa di Don Gabriele, dove a soli 27 anni ha iniziato il suo percorso sacerdotale. Comunità quella di San Lazzaro lasciata per raggiunti limiti di età, ma per continuare il suo percorso come cappellano presso il convento delle Carmelitane Scalze a Sant'Andrea in Villis. Presente alla funzione religiosa anche le cariche civili cittadine, il sindaco Seri e il vice sindaco Fanese, assieme al vice presidente dell'assemblea regionale Minardi e il comandante della polizia locale. Durante l'omelia, prendendo spunto dalle letture del Vangelo, il Vescovo ha ricordato il messaggio di Don Gabriele, contenuto tra l'altro in un suo libro. Ho cercato di comunicare che Dio è un padre che ama i suoi figli e che bisogna amare le cose che si è chiamati a fare. Messaggi che i suoi fedeli conoscono bene, dato lo stretto rapporto con la sua comunità, rapporto mai sciolto anche dopo il suo avvicendamento e continuato con quanti lo hanno sempre visto come la propria guida spirituale. Un calore e un affetto testimoniate dalle tante persone presenti in chiesa già molto prima dell'inizio della funzione e dai tanti arrivati sin solo al sagrato della chiesa perché era già piena e stracolma di gente.